E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui che come è stato che vi parla Oggi ragazzi siamo qui per andare ancora avanti per il road to arena 7 Anche ragazzi allora prima di tutto volevo informarvi che ieri ho registrato ieri sera Però sapete che non se non lo sapete il massimo di tempo visto che non riesco a cambiare le impostazioni Per youtube è di soli 15 minuti Ieri cosa ho fatto? Per sbaglio 15 minuti e 30 ieri sera quindi poi non ce la facevo registrare di nuovo Dunque ragazzi sappiate che ho registrato Ragazzi volevo farvi vedere una cosa di un mio amico Però purtroppo sono andato dal clan Vabbè no Lasciate stare Qua youtube è cicciogamer89 che ha caricato appena un video Beh lasciate stare Dunque volevo farvi vedere una cosa praticamente un mio amico ha trovato una carta leggendaria E l'ha trovata nel baule della corona Visto che non ci credete Secondo me non ci credete Ora ve lo faccio vedere Anzi guardate prendo per esempio una foto dei compiti Ora vado indietro a vedere dove è Eccolo qua Ragazzi sto mio amico ha trovato la leggendaria In arena 7 Questa invece è la mia bella foto Che io sono Cioè io sono arrivato praticamente in arena 7 Poi è bello però che sono sceso Ah ti vedete sono io che comincia a te youtube Torniamo su clash royale Togliamo un attimo whatsapp Vedete Il mio record è 2002 coppe Infatti andiamo a vedere nelle mie carte In fondo guardate Gigante royale a 4 Tremmoschettina a 2 Quindi entro ragazzi Questo come al solito è il mio solito deck Avevo copiato questo deck dal mio amico E poi mi ero copiato questo deck dalla tv royale Resco a farvi vedere il replay dove era Ecco questo deck vedete Solo commesso al posto di questa Della capanna Ho messo La strega E al posto della caserma Al posto della capanna Invece ho messo l'estratto di elisir Perché cosa almeno posso estrarre un po' di elisir La strega si fa donnazzola E' tra il gigante E' devastante Se la potete usare questa tecnica Però usiamo invece Comunque lo stesso usiamo il mio solito Uso un solito mazzo Andiamo avanti ragazzi Perché voglio tornare in arena 7 Riesci a testare per questo Per l'allergia Finalmente mi ha tornato un avversario Ragazzi se vinciamo sta partita Facciamo il devasto No No ecco Ragazzi perché se non lo avete visto Andatevi a vedere Cercate no su youtube Di video dove praticamente Fanno i giocatori che più I giocatori che più si odiano Su clash royale no Ce ne sono anche di clash of clans Tutta sta roba qua no Praticamente cosa c'è in questi giocatori Che più odi su clash royale E clash of clans In particolare su royale Il fanatico dei Come si chiama Delle emoticons Quello che ogni volta Appena inizio una partita Ti manda emoticons a google Proprio a bestia Che ti manda emoticons a più non posso Senza emoticons lui non vive Ti manda le faccine Wow Bella giocata Bella partita Tutte robe così ragazzi Fidatevi sono veramente odiosi Da trovare contro Ma seriamente Avete visto no Quanto cavolo di danno Gli abbiamo fatto prima Allora mettiamo un attimo Un bel principio Qui è protezione Nella bella Della disghieri Tanto so che lui c'ha le frecce Peggio la strega Ecco ragazzi Lui ha la stessa tecnica Che avevo fatto vedere io prima L'importante è che abbiamo Neutralizzato il gigiante Che è quello Che mi fregava a me Tutti gli scheletrini Muodano subito Ecco Ha messo il cavaliere Ora è un bel problema Se la tesla magari Mi tirasse giù la strega Poi prendiamo la torre Grazie ai nostri goblin Nel frattempo Il moschettiere Il cavaliere Ci ha fatto un po' di danno Ma secondo me ragazzi Questa partita Forse Dico forse Non voglio rischiare nulla La vinciamo Forse Non ne sono sicuro Comunque andiamo con La giant walk Ah Questa è bella Questa è bella Ah grande Per due delisir Quanto godo Ecco Ora io mi proteggo qua Però non lo sottore Ragazzi Siamo messi male Perché ha solo Quattrocento De vita Come tirare giù Quella cosa Degli sgherri E dei Cosi Lasciate stare Allora ragazzi Questa partita La voglia Assolutamente E vincere Quindi metto Butto un kamikaze Stregono a distruggere Quella cosa Subito Muore gigante Cioè l'avversario Ha lasciato E poi è ritornato Allo scontro No Ditemelo voi Sette Sette Ecco Ecco una sfida Non puoi Non puoi avere Lo spawner deck Ti prego Ti prego Per ora sta buttando Solo carce Dello spawner deck No ragazzi Scheletro gigante Scheletro gigante Può essere il momento Che ora andiamo a fargli No se Ciao Se non mi avesse buttato La strega Forse gli avremmo stellato Cioè gli avremmo coronato Però C'è arriva il suo Scheletro gigante Sotto torre Non logicamente il mio Nell'esilio Insufficiente Quando non aveva Invece a go Però ragazzi Fino a prova contraria Il maggior danno Che l'abbiamo fatto noi Perché la sua torre Ha 600 La nostra 1100 Quindi per ora Siamo in vantaggio noi Speriamo anche Di continuarla Così Anche se Contro uno spawner deck La vedo difficile Perché lui ragazzi Mi sa Che a parte Lo sceletro gigante Lì c'è lo spawner deck Serio Se c'è lo spawner deck Siamo messi male Ve lo dico Ma ve lo dico Ve lo Proprio ve lo dico Sento nessun timore Siamo messi male Se c'è lo spawner deck Mi fanno troppo avvore Ecco Scheletro gigante Però C'è la tesla Stavolta In difesa Aia Mi devo tenere L'ordine di sgherri Bella pronta Pronta Dite ragazzi Che la facciamo Non la stella La fa l'ultimo O la fa l'ultimo E prima Facciamo la stessa Cacchiata di prima Stessa cacchiata di prima Assicurato 20 euro Ragazzi Questa qui Ma la gioco Ma la La perdo No 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 Che hai capito tu Eh grazie Però non mi fai danni Vero Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Non ce ne frega niente Dello scheletro gigante No Se non mi buttava Mannaggia Il principe è una buona arma Secondo me Contro lo scheletro gigante Grazie Tutto quello Lo volete Basta che non arriva Lo scheletro gigante Sotto torre Non ci credo Come l'abbiamo preso Tanto un colpo muore Grande Gol Ma dove hai messo Dove l'hai messa No Perché Perché Devi fare così Perché Devi fare così Perché Perché devi essere così Cattivo Ragazzi Dai proviamoci Fino alla fine Fino alla fine Fino alla fine No dai No Cos'è sta cosa No 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 Ragazzi No 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 ragazzi No No ragazzi No Mamma mia Ci sono salvati a pelo Se ci salviamo Sì Queste ragazzi Me la dico di pareggio Me la voglio andare di pareggio Eh sì Ciao Se non avreste avuto Lo scheletro gigante In quel momento Sarebbe stata corona Sì perché Se non esplodeva C'era Troppe truppe Perché la scarica L'aveva usata male Niente ragazzi Pareggio Per la seconda Partita di oggi Ora andiamo a fare la terza Cerchiamo di fare un 3 a 0 Anche un 2 a 0 Non per forza Un'altra Spirare da 7 Dai ragazzi Aia C'è la principessa Lui Io l'ho sciotto Con le frecce Eh C'è la principessa Mamma mia ragazzi Però Mamma mia Se c'è la principessa Se non mi si vuole Se c'è anche lo strudone di ghiaccio Poi E un'altra C'è lo specchio C'è lo specchio Oh Ma sta principessa Non muore Vero Mamma mia Mamma mia Se ci ha fatto danni Una principessa Mamma Ancora Il fortuna Ci arriva la tesla Appena muore il drago Dai ragazzi Che se anche ci mette Lo specchio Noi abbiamo La nostra tesla Gliela faccio La giant walk Dite che ci riesco Secondo voi Lui è la fireball Se mi manda Vuoto la giant walk Io Gli faccio una corona Praticamente E dai Tu le prendi male Devi morire Non ho detto Lo fireball Non ci credo Mamma mia Ragazzi Che è successo Un miracolo Ragazzi È successo Un miracolo Ragazzi È successo Un miracolo Un miracolo Vero e proprio C'è solo 800 De vita Ok È già specchiato lui Ragazzi Ragazzi Me la voglio andare Di 3-0 Sta partita Me è infregnita E io facciamo Il double prince Se ne muore uno C'è il secondo Carica 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 Mannaglia No Se caricava Era corona Fatta Era corona Fatta Se caricava Raglia Fermate quel coso Fermate quel coso Ragazzi Ragazzi Dite che la vinciamo Sta partita O la pareggiamo O qualcosa O qualcosa Deve succedere No C'ha 300 Non ci credo Ragazzi Ragazzi Però il doppio drago È dura ora Non è frega niente Che c'è lo specchio Il gigante Così ti sciotto tutto Io non hai capito Ti sciotto tutto Un corno Ti sciotto Ho 10 secondi No dai Non è giusto Non è giusto È giusto Non è giusto Non è giusto Non è giusto No Per un pelo No Ragazzi Ditemi che non è vero Ditemi che non è vero Ditemi che non è vero No 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 Ragazzi No 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 ragazzi Niente Dopo niente ragazzi Mi raccomando Mettete un bel like Cerchiamo di superare 5-6 like E ragazzi Da chi come lo sente tutto E belle Al prossimo video No E' No 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 No